Ragazzi c'è un guardiano notturno nell'ufficio Probabilmente dobbiamo ucciderlo va Ma perché dobbiamo sempre attaccare i guardiani eh Beh questo qua sta guardando le ship di FNAF E gli piacciono Uccidiamolo Ciao troia Ammiratemi 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 Ammira il potere della Bibbia Dead I miei occhi Tu cosa Oh dov'è il mio panino eh? Eh di che cosa stai parlando? No il panino che ho lasciato nel microonde Non lo so Eh buh Vabbè mi annoio Oh hello here! Hey Bon Bon Cosa Vabbè 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 Grazie a tutti.